Buonasera Presidente, buonasera, grazie, posso dire prima volta lo studio è bellissimo dal vivo, anche da casa, incendiamoci, ma dal vivo è ancora più bello. Sì, è uguale, è rimasto uguale quello, anche in passato se fosse venuto l'avrebbe visto identico, però siamo più allegri adesso, siamo più sereni. Vero, vero. Presidente, io non vorrei sprecare l'occasione, ho tante domande da fare da tanti anni, quindi vado. Ah, quindi sono accomunato, ritorniamo al passato. Anche un po', però parliamo del Presidente intanto, il suo giudizio sul governo Meloni è molto severo, per essere eufemistico, però l'ascesa del gradimento nei confronti della Presidente è inarrestabile, perché secondo lei? Io ho la spiegazione mia personale, che mi do è questa, che Giorgia Meloni è riuscito a costruire una narrazione politica molto persuasiva, convincente durante la campagna elettorale, avvantaggiata dal fatto che sia rimasta fuori dal governo di salvezza, di salute pubblica, quindi non si è contaminata. Governo Draghi, dice. Governo Draghi. E di lì quindi ha costruito una postura, una posizione, una prospettiva in cui ovviamente avrebbe risolto tanti problemi, a partire, lo sappiamo, dall'immigrazione, acciso sulla benzina, sarebbe andato in Europa restituendo addirittura o accrescendo la credibilità dell'Italia a livello internazionale. E queste sono tutte le sue critiche, però poi alla prova dei fatti lei dice tutto questo non è avvenuto e io le chiedo, e perché continua a salire gradimento? Io me lo spiego in questo senso, per quanto sia abbastanza evidente, adesso al di là delle opinioni soggettive, che su molti di questi passaggi non stia accumulando successi, diciamo così, in realtà spesso giravolte e fallimenti, però vede questa illusio che si è creata, questo rapporto anche che ha creato con i cittadini, non è facile che si rompa presto, siamo a poco più di un anno e forse anche chi l'ha votata in questo momento non vuole ammettere a se stesso di poter aver puntato in modo sbagliato o comunque non soddisfacente. Però è chiaro, è chiaro che il contesto secondo me è tale che si sta scontrando con un principio di realtà e il principio di realtà dice ovviamente contribuirà, sta contribuendo a incrinare questa narrazione politica, perché il fatto di andare in Europa e ritornare con un patto di stabilità che soffocherà la crescita italiana, l'istituto Bruegel, molto autorevole, parla di meno 12 miliardi, è uno dei più autorevoli che abbiamo in Europa e a livello internazionale, meno 12 miliardi, e continua a dire, è venuta in Parlamento l'altro giorno, a dire no, avremo più 35 miliardi di soldi freschi, ma una bugia... Ma cosa si sarebbe potuto fare di meglio secondo lei rispetto al patto di stabilità? Ma guardi, io sostengo questo... Cosa c'è di sbagliato per essere pratici? Io non sto dicendo che io ho portato 209 miliardi e lei meno 12 miliardi, può essere anche banale... No, lei l'ha detto, adesso... Allora, sì, no, ma voglio dire, il tema non è questo, il problema è che sono passati 16 mesi, voi avete visto combattere una battaglia, avete capito qual è la posizione dell'Italia, avete sentito conferenze stampa, avete sentito un Presidente del Consiglio che ha girato le cancellerie europee come fece all'epoca, io, per persuadere, la maggior parte dei paesi erano contrari, io non ho visto combattere una battaglia. Si sono ritrovati con questo patto di stabilità e crescita. Poi, anche lì, altra postura, molto, noi saremo fortissimi, saremo incorruttibili contro i poteri forti, eccetera, questa narrativa funziona sempre, ha preannunciato una norma sugli extraprofitti, due milioni da prelevare alle banche, se l'è rimangiata, quei due miliardi sono stati prelevati dalle tasche dei cittadini e così via. Quindi, su ogni passaggio, diciamo, c'è un contrasto, una falsificazione di quella narrazione politica. Non credo che questa prospettiva possa reggiare a lungo. Presidente, ma, senta, ma alla luce di quello che sta dicendo, lei non pensa che sia stato un grande errore da parte del Movimento di Castello a far cadere il governo Draghi? Guardi, il Movimento 5 Stelle è poco. Cioè, non dice mai a se stesso, ma che ho fatto? No. A parte, guardi, che... Non era il solo, certo, però è stato determinato. Però, permettetemi, vorrei ricordarlo, perché sembra... Quando c'è stato Draghi, qualcuno l'ha detto anche, qui non andremo più alle elezioni, non serve più votare. Comunque avremmo votato dopo cinque mesi, eh? Quindi, probabilmente, la situazione sarebbe peggiorata, ma col governo Draghi... C'era di mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica. No, però, lo dico in sintesi. Il Movimento 5 Stelle, con grande responsabilità, ha sostenuto un governo che nasceva come tecnico di un super banchiere accreditato prestigioso che non era certo nelle nostre corde, ma l'abbiamo sostenuto per responsabilità politica. Poi è successo, ovviamente, che non siamo stati su tanti passaggi, a partire dalla riforma Cartavia, a partire da tanti altri momenti, non siamo stati ascoltati. eravamo il partito di maggioranza relativa. Abbiamo posto un documento, se ricordate, il 7 luglio del 2022... Onestamente non ce lo ricordiamo. ...con questioni politiche molto serie. Non abbiamo avuto soddisfazione. A quel punto lì, poi permettetemi, c'è stato uno smottamento che non è dovuto al Movimento 5 Stelle. No, no, ma senza tornare dietro... Perché sia Draghi che il Partito Democratico hanno appoggiato, nei fatti, l'accessione di Di Maio. A quel punto lì si è incriato anche il rapporto di realtà e fiducia. No, no, ma io l'ho chiesto se alla luce del presente non è pentito. Ma non si può fare coi secchi, ma... In ogni caso io dico che se avessimo continuato l'esperienza di Draghi ancora cinque mesi, probabilmente la Melonia arrivava al 35%. Quindi, insomma, dice che... Visto che era l'opposizione e godeva, diciamo, di questo smarcamento. Adesso quante opposizioni ci sono? Due o davvero c'è un'opposizione unica fra i 5 Stelle e il PD? Allora, non c'è un'opposizione unica nella misura in cui non c'è un'alleanza, una federazione tra i 5 Stelle e il PD. Siamo due forze, quelle più consistenti in questo momento, che sicuramente si ritrovano su alcune battaglie, si iniziano a ritrovare su alcune battaglie importanti. C'è un percorso, c'è una traiettoria. Non c'è domani mattina da offrire, e questo è anche positivo da un certo punto di vista, un'alternativa di governo. Perché abbiamo bisogno, lo diciamo chiaramente ai cittadini, per offrire un'alternativa di governo credibile, che significa che se dovessimo avere questa investitura da parte dei cittadini, il giorno dopo dobbiamo sapere cosa fare e non possiamo litigare. non possiamo fare come fanno loro, che allora una riforma a te, un'altra a te, la terza a te, c'è te and'accordo, sfasciavano l'Italia. Quindi in questo senso il Conte 1 con la Lega dice... Conte 1 è stato un governo di necessità, lo ricordiamo dopo tre mesi, non è stato un governo di elezione. Però dopo tre mesi si d'accordo sul programma. Si tornava a votare. Ricordiamo che il PD rifiutò all'ultimo, dopo io non c'ero ancora, negoziazioni in corse, ci fu lo scarto di Renzi, abbandonò il Movimento 5 Stelle dopo varie negoziazioni riservate, a quel punto lì dopo tre mesi o andavi con un contratto di governo dettagliato, provavi questa esperienza di governo, o si tornava a votare. Senta, ma immaginiamo che ci siano guardanti elettori dell'opposizione, quindi diciamo dei 5 Stelle o del PD. Un elettore di sinistra, la dico insomma in modo massimalista per fare presto, come fa a fidarsi di una forza che era con la Lega a votare i decreti sicurezza, chiamare i taxi del mare alle barche, eccetera, eccetera? Non da parte mia taxi del mare, quella roba. Va beh, fu il vostro ministro. Guardi, perché se uno guarda... Scusi, completo la domanda. Voi siete quella cosa lì, cioè quel partito, quel movimento che era con la Lega a dire decreti sicurezza, una delle cose onestamente più, diciamo, di destra fatte nel nostro paese, o siete una forza oggi che può stare col PD, per esempio, i ussoli? Mi ha fatto tante domande. No, è una. Come state insieme i ussoli e i decreti sicurezza? Poi, ovviamente, c'era Salvini che diceva porti chiusi, porti chiusi, ma vorrei ricordare che sono sempre sbarcati, poi tutti, con le difficoltà che conosciamo. Io sono quello che ha risposto a Salvini se si trattava della Sea Watch e Sea Eye. Lui disse, no, donne e bambine hanno vicino a Malta, va bene, li vado a prendere io con l'aereo e li porterò io. C'è stato poi anche uno scontro da ultimo e via discorrendo. Quindi non è che abbiamo condiviso completamente questa prospettiva, però agli elettori che sono a casa e che chiedono evidentemente che cosa abbiamo fatto in quel primo governo, vorrei ricordare che nel primo governo noi abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, lo spazza corrotti, abbiamo realizzato il decreto dignità, poi abbiamo continuato, poi è venuto anche le manette agli evasori nel governo Conte 2 e abbiamo impostato anche le riduzioni del numero dei parlamentari. è stato un governo fortemente progressista nell'indole, soltanto che dopo, per un processo di maturazione del Movimento 5 Stelle, quanto ne ha assunto io la leadership, ho voluto chiarire anche questo in una carta dei principi e dei valori che ritengo che attualmente sia il manifesto progressista più avanzato dalle forze politiche. Lei si definirebbe un movimento progressista. In Europa qual è la collocazione? Anche lì voi siete stati con Farage, avete avuto una collocazione. Lei parla della notte dei tempi. Però è Brexit, quindi insomma eravamo lì. Assolutamente, quando c'era all'inizio, il movimento, ma questo... Ma oggi, ve le chiedo oggi infatti, dove... Oggi noi siamo sicuramente in un'area progressista, come anche in Italia, non possiamo ovviamente lavorare con forze conservatrici o addirittura reazionari. Per quanto riguarda in Europa, vorrei ricordare però, e siamo sempre al conte 1, un altro punto da ricordare che non deve essere dimenticato è che quella pattuglia degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle è stata fondamentale per eleggere a von der Leyen questa commissione. Quando invece la Lega Salvini votò contro. Quindi abbiamo dimostrato anche nel conte 1 che alcune direttrici e dei chiari ce le avevamo ben precise, oltre a quella prospettiva riformistica che ho detto. Senta, sempre per far capire agli elettori che ci stanno guardando in vista parlo dell'europea evidentemente, che cosa vi unisce e che cosa vi divide col PD? Se lei proprio dovesse... Lo dica chiaramente, se no poi Grillo dice che lei non si capisce quando parla, quindi... Lo scrivo allora. Eh, lo scrivo. Faccio un disegnino. Allora, per quanto riguarda c'è una battaglia che abbiamo condiviso. Il PD finalmente si è convinto del salario minimo legale a 9 euro e questo è importante, un importante passaggio. Ovviamente noi siamo contro il lavoro precario, quindi quel decreto che è stato fatto il primo maggio dal governo lo consideriamo fortemente di segno reazionario. noi dobbiamo creare maggiore stabilità al lavoro di qualità perché altrimenti i giovani non possono comprare casa, non possono mettere su famiglie. Su alcune cose abbiamo visto anche che il PD sta convergendo sulla riduzione del tempo di lavoro a parità di salario che va avviato in termini sperimentali in alcuni settori ad alto impatto tecnologico. Non può essere una misura universale. Ecco, su queste cose iniziamo a convergere vediamo che il PD inizia ad essere su questa stessa traiettoria. Su alcune altre ovviamente non ancora ci siamo. Sapete benissimo che il sindaco di Roma il sindaco Gualtieri di Roma del PD sta realizzando un mega inceneritore che per noi è una follia per una forza politica che si autoqualifica progressista e quindi vota decisamente in direzione della transizione energetica. Per quanto riguarda il contesto internazionale sicuramente con con Letta il PD ha indossato il caschetto del bellicismo spinto per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino e noi assolutamente pur in un contesto molto critico difficile abbiamo ritenuto che quella spirale di una strategia militare con escalation sempre progressiva non avrebbe portato a nulla. Siamo stati permetta di dirlo dei facili profeti. Mi permetta di fare una domanda ma siamo tutti d'accordo sulla certo ci permettiamo che gentilezza vedi che bello sono fatti i passi avanti Grillo al suo tempo aveva mandato tutti voglio dire però l'ha invitato poi ho visto l'ha invitato è un mio mito è un mio mito lui io ho cresciuto con lui siamo tutti un po' cresciuti in spettacoli di Grillo senta ma sulla pace siamo tutti d'accordo il tema è che quale pace non dovrebbe essere l'Ucraina a sceglierla per se stesso anziché dirgliela noi no questo discorso io l'ho detto da subito non è corretto quando si è detto dirà sceglierà Zelensky se noi diamo aiuti umanitari forniture militari aiuti nella ricostruzione si parla già di 500 miliardi solo adesso per ricostruire quel che è stato distrutto e abbiamo tutto questo offriamo questo supporto militare le misure non possiamo dire Zelensky decidi tu ci mettiamo intorno a un tavolo ma soprattutto il tema è un altro qual è la via d'uscita ecco quando lei diceva io non perché sia un esperto di strategie militari ma l'abbiamo detto all'inizio io sono inorridito quando ho sentito la Meloni dire venire in Parlamento e dire io scommetto sulla vittoria militare sulla Russia a parte che non si scommette per le guerre altrui per altro per procura combattute per procura ma era evidente che con una potenza militare quale era la Russia con 6 mila testate nucleari non era saggio abbracciare questa spirale questa scalece militare senza via d'uscita allora sarebbe stato più saggio come abbiamo suggerito noi dall'inizio abbiamo chiesto implorato Draghi e il governo successivo impostare un negozio di pace è faticoso non facile anche di capire come però se assolutamente non imposto il negozio di pace cosa succede quello che sta succedendo adesso anche i nostri governanti i nostri ministri stanno fateci caso cambiando linguaggio stanno predisponendo l'opinione pubblica al fatto che qui la guerra non si vince Trump ha detto che in un giorno lui la risolve a parte Trump ma lasci stare Trump anche il congresso americano ha votato no alle armi il congresso americano come il movimento 5 stelle perché perché alla fine si sta realizzando parlano di stanchezza un ephemismo che si usa per le opinioni pubbliche occidentali in democrazia si va a votare e si inizia inizia una presa di disimpegno militare non sarebbe stato meglio da subito impostare un negozio di pace man mano che passa il tempo ci si avvicina in particolare alle elezioni americane si riduce il potere negoziale del fronte occidentale Presidente io voglio fare tre domande secche la prima visto che abbiamo parlato di Trump io ho chiesto prima ai giornalisti presenti se per il nostro governo è più conveniente la vittoria di Biden o di Trump lo chiedo anche a lei lei con Trump aveva un rapporto personale buono la chiamava per nome se fu sbagliando l'ultima vocale ma insomma lei preferisce Trump o Biden? Guardi io credo che chiunque adesso vedremo poi quando si definirà esattamente l'Italia di contendenza però lei io credo guardi io faccio un interesse io faccio un interesse dell'Italia quindi con Trump ho cercato di coltivare un rapporto per tutelare l'interesse nazionale e poter dialogare anche permettetemi lo dico un po' immodestamente ma non dobbiamo essere modesti dall'Italia da pari a pari cioè quello che io chiedo anche ai governanti che abbiamo adesso è di poter nel quadro di un'alleanza a parlare in modo franco questo vale per Biden vale per Trump e per chiunque sarà e la postura dipende ovviamente da come tu vivi il contesto se tu pensi di doverti accreditare a livello internazionale vai lì molto modestamente questo è chiaro però non ho capito se lei preferisce Biden o Trump l'ho detto l'uno o l'altro se mai mi trovassi non mi può dire che sono la stessa cosa cercherete di tutta ma io non parlavo della sua responsabilità di governo la storia di Ades di Giuseppe Conte non del Presidente del Consiglio lei si sente più vicino ma guardi hanno due approcci ideologici completamente diversi l'uno ovviamente potrebbe essere più vicino alla sfera progressista e l'altro no però poi per esempio sulla guerra potrebbero invertirsi le cose quindi io non non me lo vuole dire insomma ma non ha senso che io mi metta qui se lo chiede a me glielo dico per l'uno e per l'altro se me lo chiede io glielo dico quindi per me Biden senza dubbio uno che tenta l'assalto a Capitol Hill e dà il benvenuto a Capitol Hill io sull'assalto a Capitol Hill ho preso le distanze ho capito però li sto chiedendo tra Biden e Trump allora per quanto riguarda quella l'ho detto chiaramente è una pagina nera della democrazia ho capito però non è sufficiente per lei lasciamo che i giudici facciano i loro accertamenti e le loro senta prima ho nominato un altro argomento che è importante importantissimo la transizione ecologica che è una delle bandiere del Movimento 5 Stelle Grillo da grande visionario ne parlava tantissimi fa ed è un argomento secondo me molto sottaciuto rispetto all'esigenza del presente del futuro soprattutto ma i soldi dove si prendono per fare la transizione ecologica cioè che cosa si pensa a una patrimoniale cioè lei dove prenderebbe i soldi per questa transizione ecologica parte che guardi la transizione ecologica si è parlato tanto di super bonus lì la transizione ecologica si è realizzata già con super bonus e si realizza con le comunità energetiche che consentono il taglio di emissioni di CO2 e grande risparmio per quanto riguarda dei costi energetici efficientamento e quindi ci consente una rigenerazione urbana che poi ce l'impone l'Europa allora oggi come oggi io dico siamo già siamo già nella dimensione di investire maggiormente le fonti rinnovabili con vantaggio reciproco quindi i soldi che oggi noi stiamo utilizzando per il governo vuole realizzare un hub del gas ma ormai il gas è fonte fossile lo sapete siamo già dobbiamo andare avanti noi dobbiamo investire per quello che succederà fra 10 20 30 anni addirittura anche in Cina l'investimento delle fonti rinnovabili hanno superato quelle per fossile e da questo punto di vista io dico anche adesso che c'è il vertice Italia-Africa che viene adesso reclamizzato io sono un tifoso dell'Italia quindi spero che questo vertice sia un utile di confronto ma cosa stiamo portando a questo vertice cos'è questo piano Mattei per adesso è ancora una struttura di missione una cabina di regia non c'è ancora nulla non abbiamo capito il governo diceva che era già pronto poi ha detto lo scriviamo insieme al Parlamento adesso lo scriviamo con i paesi africani e di là insomma si sposta sempre là ma il problema vero sa quell'è che dobbiamo stare attenti perché se questo piano significa valorizzare cercare di migliorare l'approvvigionamento energetico di gas dell'Italia e diventa un po' il piano dell'espansione fossile di Eni in Africa noi siamo al passato siamo al passato e non riusciremo a regolare i flussi migratori altro obiettivo di questo governo che interessa anche a noi regolare i flussi migratori perché storicamente l'investimento nel fossile ha portato corruzione stabilità politica più povertà anziché migliorare le condizioni quindi siamo attenti a prendere a malimpostare il dialogo con i paesi africani il partenariato trae uguali non lo si può fare se devi creare nell'interesse dell'Italia al lab europeo in Italia riportando indietro le lancette dell'orologio della storia Presidente su base di Netrapp non mi ha risposto però questa domanda mi deve rispondere ius soli lei è favorevole assolutamente no io sono per lo iuscole e lo iusculture è un altro elemento che ci differenzia spieghiamo al pubblico ius soli vuol dire chi nasce in un paese ha il diritto alla cittadinanza di quel paese iuscole dopo un percorso per esempio scolastico di qualche anno adesso è impossibile praticamente che ci vogliono 18 quindi assurdo noi abbiamo già presentato la scorsa legislatura abbiamo ripresentato anche questo e ci battiamo perché se un ragazzo che si è emigrato con la famiglia sia in Italia dopo un ciclo scolastico anche di 5 anni possa acquisire la cittadinanza italiana non per nascita perché quello diventa un meccanismo di integrazione vera rispetto al nostro patrimonio culturale alle nostre tradizioni alla conoscenza della nostra cultura invece il fatto dello iusoli significa che semplicemente tu nasci sul suolo italiano e acquisti la cittadinanza e la maggior parte dei migranti invece vanno in Germania Austria Venezia Francia e allora scusi aggiungo no dico però che è quello che è capitato a noi due come? che è quello che è capitato a noi due siamo nati in Italia per caso e siamo diventati italiani beh non per caso immagino beh insomma non abbiamo scelto non scherzerei ma lo dico non abbiamo scelto no però attenzione lo voglio chiarire perché noi abbiamo già lo ius sanguinis che è il sistema per l'ascendenza paterna e materna se aggiungiamo mentre negli Stati Uniti hanno lo ius soli e non lo ius sanguinis se noi aggiungiamo lo ius sanguinis allo ius soli si crea un'alterazione del sistema ecco perché è più razionale giusto aggiungere ius culturi o scole che dir si voglia lo ius soli ripeto è la mera occasione per un paese di transi come il nostro non va bene ma lei torna un'altra volta anche a trovarmi adesso devo passare a tutti i dieci anni beh questo dipende da lei no dipende da lei guardi l'assicuro io la invito sin d'ora allora prendo l'impegno davanti ai tanti testimoni che assolutamente tornerò volentieri così continueremo la nostra conversazione sarà un grande piacere la ringrazio davvero molto presidente grazie a tutti grazie 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 di qua grazie